Ciao amici della prova del socio, il nostro ciao solare estivo arriva direttamente dal reparto ortofrutta di Centronova Extra Cop di Bologna e siamo nel nostro regno dell'estate con Alessio e Gabriele e loro in questo momento si sentono una pesca e una nettarina di Romagna e GP e allora scrivono la loro cartolina a tutti gli italiani per dire sono succosa, sono briosa, sono la miglior cosa, sono tutta la bellezza dell'estate in un morso e voi che cosa scrivereste? Noi l'abbiamo chiesto ai soci consumatori di Coppa Alleanza 3.0 e ci hanno risposto così Mangiatemi, sono la nettarina dolce, squidita e gustosa, non ve ne pentirete è una promessa italiani, mangiatemi perché ha un sapore spiegabile sono belle e sucrose, gradevole da mangiare mai più senza sono dolce e grande sono un po' aspra ma croccante e intrigante, assaggiami la nettarina di Romagna e GP secondo lei dolce, gustosa, croccante, succosa, squisita gustosa, dolce, croccante, rinfrescante, buonissima e inspiegabile intrigante, aspra, succosa, croccante, gialla e spinosa dolce, interessante, da scoprire, croccante e ha un sapore deciso saporita, fresca e tutta da assaggiare fresca, croccante, buona, molto dolce come ti piace mangiarle nella vita di tutti i giorni? quasi acerbe, molto dure al mare, sotto all'ombrellone, per rinfrescarsi così spicchiate in quattro, simmetriche, oppure così a manatta i GP che abbiamo scoperto oggi cosa vuol dire GP? identificazione geografica protetta comunque invece per quanto riguarda le pesche le pesche così, se vengono raccolte a matura sono molto molto buone Luca è diventato pesca di Romagna e GP e vi dice questo buona, dolce, il resto lo scoprirete a mangiarmi ecco, dovete mangiarmi perché sono senza pelo, perché sono buono poi fai diventare tutti felici e contenti mangia la nettarina e succosa, soda e saporita a me è venuta in mente quella nettarina quando le mangiavo magari al mare tipo la goccia di pesca quella che se la mangi così perché è buonissima e ti cade, ti arriva così è dura e dolce nello stesso tempo quindi è una cosa che è unica tuo nonno era un produttore proprio della pesca e nettarina di Romagna e quindi qual è il ricordo che ci vuoi regalare delle tue mattine albeggianti alle 5 quando andavo era splendido il fatto della solidarietà che c'era tra le diverse persone che raccoglievano le pesche perché era una cosa splendida che non si pagava l'altro ma era sempre una famiglia, aiutava l'altra famiglia per raccogliere le pesche quindi mi ricordo questa cosa di solidarietà molto bella la colazione avveniva intorno alle 10, 9 e mezzo a 10 dopo che ti eri svegliato si chiamava anche Razzion in dialetto romagnolo si mangiavano le sfogliatine, quelle croccantine così con una pesca, un po' di vino e acqua e specialmente il tè alla pesca Mina è una nettarina di Romagna IGP, ascoltatela dunque il gusto di nettarina è prendersi cura della salute e tanti cuoricini per tutti questa è un'altra nettarina di Romagna sono dolcissima e croccante mangiami, sono una dolce pesca, siamo dolci fuori e morbide dentro mangiate nettarina, è dolce bellina mangia la nettarina perché è molto genuina a me faceva senso il peluche esterno e quindi mi ricordo mio nonno che me le doveva sbucciare io non le dovevo vedere col peluche ma praticamente per me le pesche sono senza la buccia perché non l'ho mai trovata con la buccia se la pesca è pelosa vuol dire che è gustosa io sono una nettarina e sono rossa perché ho preso troppo sole però potete farlo anche voi perché nella nettarina c'è il... beta carotene che ci fa a bronzare sono Sara, la nettarina di Romagna, sono tutta da scoprire non ti delterò abbasso le pesche, viva le nettarine perché dobbiamo mangiare le pesche e le nettarine d'estate? perché è stagione, cioè nel senso come qualsiasi altro frutta, verdura cercare di mangiare quelle che sono di stagione per ridurre il trasporto diciamo da una località all'altra di cibo quindi con tutto il consumo di carburante e quello che è e poi il carburante serve anche a noi e queste ce ne danno tanto senza darci calorie il sorriso di Romagna è un per voi finale in dolcezza e in bellezza della nostra prova del socio siamo sempre qui, centro nova, iper cop, anzi extra cop e abbiamo i due extra, extra caporeparto e extra vice caporeparto con loro la pesca e la nettarina di Romagna, i GP si descrivono così io sono la nettarina di Romagna, sono buona perché sono del territorio, sono saporita, cresco alla luce del sole e sono comagnolo, quindi sono ancora più buona e vai in vacanza nell'acqua del sole a Cesenatico sono buona, dolce e succosa, sono una pesca di Romagna e se vi servono altre motivazioni, beh, continuate a seguirci sempre con la prova del socio e buona estate a tutti da pesca e nettarina di Romagna e da loro a Cesenatico